Nel cuore dell'estate le famiglie oltre alle vacanze hanno in agenda anche l'acquisto del materiale scolastico per i figli. A tal proposito il Consorzio Solcosondrio rinnova per il quinto anno consecutivo l'iniziativa Più gesti positivi che si inserisce all'interno del progetto Più segni positivi. L'intento è quello di sostenere e aiutare le famiglie più bisognose nell'acquisto di diari, quaderni, cancelleria. Nello specifico quest'anno, grazie al rinnovato sostegno di Fondazione Cariplo, sarà messa a disposizione ben 180 voucher del valore di 100 euro ciascuno per un investimento totale di 18.000 euro. La campagna positiva è aperta e rivolta a tutte le famiglie residenti in uno dei 34 comuni degli ambiti di Sogno Tirano con figli nati fra il 2004 e il 2016 che frequentano le scuole primarie o secondarie. Uno dei requisiti fondamentali per avere accesso al voucher è l'indicatore ISEE in corso di validità che deve essere al di sotto dei 18.000 euro. Sono invece esclusi i nuclei familiari che attualmente sono beneficiari dei servizi erogati dal market solidale Emporion. I genitori che rientrano nei limiti indicati hanno tempo fino al 27 luglio compreso per presentare la domanda. Il materiale che si può acquistare spazia dai prodotti di cancelleria al materiale scolastico ad esclusione dei libri di testo ministeriali. L'accesso ai voucher è da richiedere tramite apposito modulo, disponibile sul sito www.piusegnipositivi.org. Una volta compilato è da inviare esclusivamente via e-mail, unitamente alla coppia del proprio modello ISEE in corso di validità. Sul sito sono inoltre reperibili gli elenchi dei comuni degli ambiti territoriali, quelli delle cartolerie aderenti, così come i regolamenti e tutte le informazioni necessarie. Le comunicazioni relative all'assegnazione o meno dei voucher verranno inviate a tutti i richiedenti entro venerdì 12 agosto. L'erogazione dei buoni verrà effettuata a partire da lunedì 22 agosto, potranno poi essere utilizzati fino al 31 dicembre 2022.